Torniamo a parlare di turismo eco sostenibile con la dottoressa Lamura, peraltro con lei nell'ambito del workshop andremo ad esplorare alcuni argomenti fondamentali come per esempio quello assolutamente interessante e soprattutto molto d'attualità, visto che ci apprestiamo a vivere una stagione estiva che ci auguriamo sia a Florida, il tema importante è quello delle bandiere blu, che cosa sono, che cosa rappresentano per i comuni che riescono a beneficiarne? Bene, intanto diciamo che ieri c'è stata la conferenza stampa a Roma, sono state assegnate ben 147 bandiere blu per 280 spiagge dell'Italia, che rappresentano in pratica il 7% delle spiagge bandiera blu nel mondo. Quindi ci possiamo considerare soddisfatti? Sicuramente sì, soprattutto perché visto che parliamo di una procedura internazionale molto stringente per quanto riguarda proprio la sostenibilità ambientale, quindi per la qualità delle acque che deve essere eccellente, per la depurazione che deve essere assolutamente efficiente, per la raccolta differenziata che deve anche quella essere molto spinta, ma soprattutto con una riduzione del monte dei rifiuti annuale, quindi insomma con un miglioramento continuo ambientale, come anche per esempio sicurezza delle spiagge e accessibilità per i disabili. Insomma servizi importantissimi che i comuni stentano grazie a questa crisi, purtroppo diciamo, grazie insomma. Quindi chiaramente questi comuni sono davvero comuni che possono essere considerati il fiore all'occhiello dell'Italia nonostante tutto, insomma nonostante questa crisi. Comuni dunque che dimostrano di essere virtuosi, ma non solo, vengono in qualche modo premiati e questo premio naturalmente crea poi tutto un indotto intorno a loro naturalmente, voglio immaginare. Certo, intanto diciamo che chi certifica i comuni è la FEE, una fondazione internazionale per l'educazione ambientale che è nata nel 1987 e ha sede in Danimarca, oggi presente in 48 paesi nel mondo. Quindi abbiamo capito che esiste una sorta di vera e propria autorità che garantisce i criteri ai cui devono poi rispondere naturalmente i comuni. Oh, dottoressa, lei qui in mano però ha una brochure che non mi parla di blu ma mi parla di green, di green key. Che cosa intendiamo con green key? Bene, questo è un altro marchio di qualità ambientale, sempre della FEE, quindi la Fondazione Internazionale per l'Educazione Ambientale, ed è rivolto alle strutture turistiche. Bene, e così come per i comuni virtuosi, questo marchio certifica il processo di sostenibilità ambientale nell'ambito di un'organizzazione turistica. E chi è che va a fare i sopralluoghi, o meglio, la mia domanda è, certificate in base a quello che raccontano i clienti, oppure c'è proprio qualcuno che si va ad informare, va dei sopralluoghi, eccetera? Bene, intanto la struttura deve preparare una serie di documenti, è necessario fare un'analisi ambientale di tutti gli impatti ambientali della struttura, dopodiché si fissano degli obiettivi ambientali che vengono suddivisi in traguardi entro tre anni, quindi da raggiungere entro tre anni. Dopodiché ogni anno la struttura viene valutata dalla FEE, quindi dall'organismo FEE, che verifica se le performance ambientali sono rispettate, e quindi a quel punto la struttura viene certificata. Sicuramente questo è un marchio, così come quello della bandiera blu, che ha enormi benefici, prima di tutto dal punto di vista della promozione sia dei comuni per le bandiere blu, perché appunto promuovo i comuni bandiera blu, la promozione di un territorio che è sostenibile e la stessa cosa anche per le strutture alberghiere, sicuramente questo marchio ha un grosso ritorno in termini di promozione. Ma oltre a questo beneficio c'è proprio un beneficio per l'azienda stessa, in quanto c'è un risparmio dei costi di gestione, dei costi, diciamo, dei consumi, perché chiaramente parliamo di riduzione dei consumi dell'acqua, aumento dell'agricolta differenziata, utilizzo comunque di prodotti biologici, quindi torniamo appunto ai prodotti chilometro zero, e quindi all'agricoltura che deve essere quella biologica e quindi soprattutto con la promozione di prodotti locali, quindi insomma ancora made in Italy e abbiamo poi, diciamo, informazione ai turisti che devono essi stessi essere rispettosi dell'ambiente dove si trovano, anche perché, voglio dire, il turismo in sé è impattante e bisogna trovare delle strategie, e questa è una delle strategie più opportune, ovvero di sensibilizzare il turista affinché sia rispettoso del territorio che va a visitare. E tutto questo è davvero molto interessante, in questo senso dunque ci sentiamo tutelati e garantiti, e adesso siamo in attesa di vedere lo svolgimento del workshop perché noi oggi andremo a dare veramente delle statistiche, quindi sarà molto importante seguirlo. Grazie dottor.